Sessore Gatti, 10 milioni di euro per contrastare la disoccupazione giovanile. Progetto molto forte, concreto, nel quale crediamo tantissimo. Ha a che fare con la speranza per i nostri giovani da 18 e 35 anni che siano diplomati oppure laureati. Chiediamo loro di investire su loro stessi, di essere determinati. Offriamo correlativamente alle imprese la possibilità di assumerli a tempo indeterminato con un contributo importante di 15 mila euro oppure di prenderli in tirocinio per quattro mesi e dopo aver verificato la loro determinazione e la loro capacità trasformarli a tempo indeterminato sempre con un contributo di 15 mila euro.